Eh no, ecco, è da discoteca perché io ce l'ho spinto. No, però non è vero, in discoteca non si suona solo quel tipo di musica, si suona anche armi. Allora, sai cosa facciamo? C'è un servizio che parla proprio del nuovo, dei cambiamenti delle discoteche. Oh! Vediamo di cosa si tratta. Momento di pausa per l'underground. Oggi in discoteca la tendenza musicale la fa la musica commerciale. Allegra, molto passata per radio, facile da ballare. Menuri sin frenetici, più happy music. In questi ultimi cento stessi anni si tende a dare un locale non più buio o tumore con un solo tipo di musica, ma si tende a dare un locale elegante, raffinato, per pazienti clienti si possono sentire come a casa scoglia. Se avete notato multi musica con più piste e con uno stile un po' particolare, la gente non vuole più la discoteca un po' commentare nel parco. Il solito si salutava, vuole stare un po' in un ambiente molto caldo, molto accogliente. Noi cerchiamo di seguire la moda del momento, principalmente la musica. Affortunatamente abbiamo due sale, quindi cerchiamo di accontentare e fare i gusti della gente. Il tipo di musica che va in questo momento è un po' particolare, ma prevalentemente sul commerciale, perché meno male la musica che balla la mazza. Mast per riempire un locale sembra essere diventato il VIP. Invitare un personaggio famoso del mondo dello spettacolo, della moda, della musica, attira gente, incuriosisce e piace. Ci sono personaggi, si fanno ospitate, perché comunque la gente vuole vedere come sono poi in realtà i personaggi famosi, visto che li vede solo dietro lo schermo. E poi penso sia anche vantaggioso per un personaggio famoso farsi vedere dal vivo, far vedere che è comunque una persona come tutti. Abbiamo sempre cercato di fare il nostro meglio dietro a una console, sia nel mettere dischi che spararvi scherate. E' la verità, a me i fammi pagano per dirle in radio e in televisione, dunque, cosa c'è di meglio. Dovevano arrivare anche altri ottimi, è chiaro che qua, da capo non potrà mancare. E' a questo punto, e' a questo punto. Ragazzi, sono voi, sentiamo i libri qui e...